Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, oggi ci sponda Sonia e faccio una ricetta per far crescere le unghie più velocemente. Quindi, servono due ingredienti, uno l'olio di oliva e andiamo a metterne un po' all'interno di una ciotola, così. E poi andiamo a metterci del succo di limone all'interno. Io con l'imbottiglia, però se avete i limoni freschi, ancora meglio potete spremerlo e ne mettiamo un pochettino, così. E ora dobbiamo semplicemente andare ad immergere le nostre unghie. Come vedete queste sono le mie unghie naturali, non fate caso a questo che ho chiuso nell'auto. E oggi vado a fare il trattamento che faccio tutte le settimane, appunto. Quindi vado a immergerle, così, e le lascio per almeno un quarto d'ora, 20 minuti. Più le lasciamo, meglio è. E io adoro questo trattamento, perché su di me funziona veramente benissimo. Serve anche per idratare le mani, oltre che le unghie. Quindi lo lasciamo 20 minuti e il risultato, come potete vedere dalle mie unghie, è assicurato. Fatemi sapere se lo provate. Se volete, anche voi che realizzo il vostro video personalizzato, la vostra ricetta, lasciatemi un commentino qui sotto con il video che volete vedere. E provvederemo subito a realizzarlo. Un bacio, ciao! 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 Ciao!